Nessuna traccia ematica di Maria Venasio de Sousa, il sangue della sessantenne brasiliana uccisa nel suo appartamento di Via della Robbia, non sarebbe stato infatti trovato né sull'auto né sui vestiti di Federico Ferrini, il 37enne casentinese che ha confessato l'omicidio della donna. Queste le prime indiscrezioni che emergono dai rilievi svolti sulle tracce biologiche trovate e repertate dalla scientifica prima nell'appartamento e poi sulla megan scenic del reoconfesso. L'auto del 37enne ancora sotto sequestro era stata passata al setaccio con le più moderne tecniche dalla polizia scientifica della Toscana. Gli abiti erano stati inviati a careggi come le tracce biologiche trovate dagli investigatori sulla scena del crimine per essere così analizzate. I risultati avrebbero dovuto dare un riscontro scientifico al racconto fatto da Ferrini prima negli uffici della squadra mobile poi di fronte al GIP. Il 37enne ha infatti raccontato di aver ucciso la donna la notte del 26 agosto scorso perché si sentiva minacciato e ricattato. 200 mila euro gli avrebbe chiesto la donna per non rivelare a tutti i suoi rapporti con le prostitute. Il 37enne si sarebbe così accanito contro di lei prima con una spranga di ferro che aveva portato con sé poi le avrebbe stretto un laccio attorno al collo. Restano però ancora molti punti da chiarire dalla dinamica al movente. Inquirenti adesso stanno anche analizzando i conti correnti dell'uomo per capire se ci fosse stato anche qualche prestito da parte di Maria. Il 37enne si trova dallo scorso 6 settembre nel carcere a Retino di San Benedetto dove proseguono i colloqui con l'esperto di scienze forensi incaricato dalla difesa che dovranno portare a valutare una richiesta di perizia psichiatrica nei suoi confronti.